Pochi sanno che per, non per Pierre Caloulou, per la famiglia di Caloulou sono settimane caldissime, perché? Pierre Caloulou sta lottando per vincere un qualcosa di importante nel Milan, ma lui ha un fratello Aldo che sta lottando, Aldo è centravanti del Sojo, Ligue 2, diciamo la Serie B italiana, per andare in Serie A, ma anche l'altro fratello Gedeon con la Giaccio sta lottando per andare in Serie A francese, cioè Ligue. Sono settimane fantastiche per la famiglia Caloulou. Sì, veramente. La settimana per noi inizia da venerdì o da sabato, guardo sempre le due partite e la mia arriva dopo, allora ho un po' più di pressione per loro che per me. Quindi, come vivono i tuoi genitori? Come si dividono tra questa passione, tra la Giaccio e il Sojo che sono rivali e poi Caloulou in Italia, Pierre? Sì, ma per i genitori adesso forse è una cosa normale per loro, ma lo so che guardare le partite di noi è sempre qualcosa di speciale, ma anche avete la pressione perché vuoi che i tuoi piccoli sono forti. Allora spero che tutto sia bene. Senti, qual è stata l'importanza di avere due fratelli che giocavano a calcio? Tu giochi a calcio grazie a loro? Sì, sicuramente. Perché quando sei il piccolo vuoi fare sempre come il tuo grande fratello, perché per me è un esempio. E allora grazie a loro è importante perché loro hanno vivendo le cose già prima di me, allora possono mi aiutare tanto e dire le cose prima che sbaglio. Certo, la loro esperienza è stata importante anche per te. Sì, sì, sicuramente. Spiegaci un po' i tuoi inizi. Hai iniziato in quale settore giovanile? Quando hai capito che potevi diventare un giocatore importante, un giocatore professionista? C'è stata una partita, un momento? Già quando sei piccolo hai sempre il sogno di essere un giocatore, ma veramente devo dire che quando vedi il tuo grande fratello giocare le partite importanti come la Champions e questo cos'è qua, è veramente che tu dici che voglio veramente fare questo qua e questo qua è per me e vado a fare tutto per essere pronti per giocare questo partito. C'è stato però una persona, un momento e tu hai detto, io volevo diventare, ma sto diventando. Una persona che... Che ti ha aiutato in quei momenti lì? I tuoi fratelli, un tuo agente, non so. Veramente già il papà, la mamma. Ma forse di più il papà perché seguo di più, seguo tutto, anche la mamma e dopo i fratelli anche. Ma perché il papà è qua tutte le partite. Ah, ecco. Da piccolo allora vedi veramente la mia... Crescita. Sì, crescita e lo so che... no, forse è lui che... È stato lui la persona più importante. Senti, quando hai capito che forse il Milan ti voleva, come hai vissuto quei momenti, quelle settimane, quei giorni? Beh, era un momento un po' strano perché era quando abbiamo il primo logro. Sì. Allora è questo momento che ho avuto, un po' prima, ma ho avuto le prime chiamate di tutto. Sei rimasto sorpreso, non te l'ho aspettato. Già non sapevo che sia il Milan, sapevo che ho... C'era una squadra. Qualche squadra importante e dopo ho avuto il Milan. Prima quando tu senti che, ok, un club ti voglio, quanto non è ancora concreto, tu non sei, ok, vabbè, ma quanto hai veramente il chiamato di Maglini, di Massara, a questo momento che questo qua diventa, ok, forse... Forse da sogno, da rêve diventa realtà. Sì, sì, sì. Ecco, io ho visto giocare Kaloulu nel Lyon B, nel campionato, perché c'è un campionato per le squadre B, ma giocava a terzino. E al Milan mi dicevano, guarda, adesso gioca a terzino, perché le prime partite le ha fatte da difensore di fascia destra, ma lui è un grande difensore centrale. Allora, terzino o difensore centrale? Questo qua è una buona domanda, ma è sempre durante tutta la mia carriera, anche da giovanile, è sempre una domanda che... Che ti hanno fatto? Sì, l'allenatore che ha sempre le riposte di questa domanda. Io faccio tutto per essere forte e importante per tutte le squadre che possono giocare tra terzino o tra centrale. Non è uguale, ma per me sei dentro le undici primi. Però mi sembra che come difensore centrale, mi sembra che sei esploso qui al Milan, più che terzino, hai giocato buone partite, ma difensore centrale con Tomori, una coppia straordinaria. Grazie, ma sì, perché da centrale sei in un posto differente, allora tu dai un'impressione anche differente. Certo. Questo qua per me fa sempre questo impressionale, gente che mi vede di terzino o di centrale, perché anche dentro la testa sei anche differente, tu non hai il stesso posto e la stessa importanza dentro una squadra. Allora, forse è per questo qua. Quando è andato via dal Lione, c'è stato pubblico un po' protestato. Addirittura Tony Parker, che era il presidente del Villorban, credo una squadra importante di basket, ha cercato di convincere Calolù, no, rimane a Lione. È vero questo episodio? L'ho letto così. Sì, sì, è vero che mi ha parlato anche tanto al telefono e anche personalmente. Certo. Tu avevi deciso? Sai che veramente la decisione è una decisione veramente difficile, molto difficile, anche se quando vado all'esterno del tuo paese, anche di più, ma questo chiamato di parker è una cosa che mi rende molto agorioso, anche perché è una personalità molto importante del tuo sport e che ha fatto la storia anche del basket francese all'internazionale. Allora, se mi chiamano, voglio dire che hanno qualche qualità importante, sono molto agorioso e dirò sempre grazie per questo qua. Una delle caratteristiche di Calolù che io ho sempre apprezzato, io l'ho visto quando ha debuttato dal primo minuto, aveva già giocato a Genova, dove poi ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Ecco, ragazzo che debutta dal primo minuto, la freddezza e la personalità. Cioè, tu puoi giocare anche la finale di Champions League, speriamo che tu la possa giocare presto, ma sei freddo e sicuro. Ecco, questa secondo me è una delle tue caratteristiche. Sì, è vero che le persone mi hanno detto sempre questa cosa e la maniera di dire personalità è veramente una cosa molto italiana, forse. Forse perché ho sempre fiducia dentro di me, dentro il mio lavoro e mi dico che ho fatto tutto per avere questo qua. Ho aspettato tanto anche, allora quando sono sul campo solo voglio, come si dice, approfittare. Approfittare. Sì, approfittare di essere qua, allora veramente senza pressione, solo giocare calcio, spero di giocare bene e dopo la partita vado a vedere cosa. Quello che succede. Ecco, nel Milan in che cosa ti senti migliorato? Giochi con grandi campioni, sei arrivato che magari valevi 7-8, decidi tu il voto e adesso sei cresciuto, sei sulla bocca di tutti. In che cosa sei migliorato in questi due anni, secondo te, soprattutto? Per me, veramente soprattutto, l'aspetto mentale. Concentrazione? Sì, la concentrazione, anche la voglia di vincere sempre. Sì, quanto dire, l'aspetto mentale è dentro la volontà di essere sempre perfetto, sempre a livello alto, sempre dimostrare che sei forte. Perché dopo l'aspetto veramente tecnico tu puoi sempre crescere, ma per me non è veramente questo qua che ho cambiato tanto, ma è veramente l'aspetto mentale di tutti. Adesso sono più pronti, più, forse, non lo so se è più di volia, ma più dentro le partite. Più concentrato, più determinato. Che cosa ha voluto dire per te Stefano Pioni? Che rapporto avete? Già l'allenatore, il mister è qualcuno che è veramente vicino a noi. È una persona che puoi aiutare tanto sull'aspetto anche personale. Lui puoi parlare con lui facilmente. Allora quando arrivi di qua e sei giovane è una cosa che ti aiuta. E anche puoi parlare un po' francese, allora è un'altra cosa che può aiutare. E per me sarà sempre una natura differente dagli altri, perché quello che mi ha dato i primi minuti, allora è una cosa che mi ricordo per sempre. Per sempre, certo. C'è un giocatore che ti sta aiutando più degli altri o ti ha aiutato più degli altri qua? Ah, spiegaci. Sì, perché quando tu vai all'esterno e anche di più dentro una squadra come Milano, se tu hai un po' un riferimento qua, abbiamo un amico in... Comune? Sì, comune, allora ho parlato un po' con lui prima, allora quando sono arrivato qua avevo già un punto di riferimento, non sono arrivato qua e senza... Poi parlate francese ovviamente. Sì, e dopo che sia anche l'Ao. Sì? Sì, sono i primi che sarei già qua e che mi hanno aiutato. Senti, e quando sei entrato la prima volta a Milanello, le fotografie, gli alberi, la storia, la leggenda, cosa hai provato? Sì, è veramente a questo momento che... puoi dire che sei da Milan. Sì, perché prima come eravamo in Covid, avevo visitato niente veramente. Certo. Allora è veramente la prima impressione, sì, non ho dato questo agli altri, ma hai sentito un po'... Ti sei emozionato un po'? Sì, un po' qualcosa di differente. Senti, qual è il segreto secondo te di questo Milan, che è sempre al vertice della classifica? Avete un segreto, l'hai visto crescere, tu ma anche la squadra. Sì, per me è la voglia, è il lavoro. Per me sono le due cose che abbiamo di più dentro questa squadra. Dopo, sì, è vero che abbiamo anche la qualità normale, ma tante squadre hanno qualità a questo livello. Sì, per me, sì, il lavoro è la voglia di vincere e di essere una squadra forte. E quando sono arrivato qua, è questo che è veramente cresciuto molto e che ho visto dal primo giorno. C'è un giocatore francese che si chiama Mbappé e lo conosciamo tutti, ma quando Caloulou, dal limite dell'area, tira questo raso terra alla destra del portiere dell'Empoli, a qualcuno ha ricordato un gol di Mbappé. Esagerato o no? No, sì, lo dice, allora sei giornalista. Possiamo smetterla qui l'intervista. Sì, 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 sì. Sì, lo dice allora, forse è vero. Non ne so. Cos'hai provato? Hai questa intuizione, hai visto la palla che andava? Che emozione a San Siro, il tuo primo gol a San Siro. Sì, 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 con questo pubblico molto contento, veramente, sei carico a questo momento, dopo qualche giocatore mi hanno preso, allora non veramente posso risultare, ma ho una molto buona sensazione. Senti, ti ha detto qualcosa di particolare Maldini, che rapporto hai? Lui, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Paolo. Lui è sempre qua all'allenamento, già. Con noi e con me in particolare, mi dice sempre, non sempre, ma qualche volta qualche cosa a migliorare, le cose che ha fatto bene anche. Sì, è una persona importante, anche di più. Io dico sempre che quanto puoi imparare le persone che hanno giocato a questo livello e a questa grande esperienza, è sempre una cosa che tu prendi per te e sei sempre contento. Ancora sto freddo sempre, ma dentro lo sai che è una cosa gratificante. Gratificante, certo. Sì, sì, gratificante. Senti, uno dei tuoi sogni, ce la faremo a vedere Kaloulou in Qatar con la Francia o è un po' difficile? Adesso giochi nell'Espoir. L'Espoir in francese è la squadra Under 21. E ci speri di andare in Qatar a continuare a giocare a questi livelli a Milan? Sì, ma quando arrivi di qua e anche di più a Milan, gli obiettivi si crescono anche con la tua performance. E dopo lo so che la Francia abbiamo una grande squadra e tanti giocatori, forti. Sì, più forti. A vedere, ma sì, questo qua è sempre un obiettivo. Questo devo passare con grande performance, con Milano normale. E dopo vediamo, ma per me dentro la tua carriera non devi avere barriera. Non devi avere limiti, certo. Sì, ti devi sempre sperare e lavorare per qualcosa di grande. Veramente. Senti, mi interessa questo. Hai affrontato tanti bravi giocatori italiani. C'è un giocatore che ti ha fatto, diciamo, tribolare di più, hai fatto più fatica a controllarlo? Un attaccante che ti è rimasto impresso come avversario. Te ne dico uno io, mi dici tu, Victor Rosyman? No, è vero che lui è un attaccante, ma quando ho parlato con i miei, ho detto che è un attaccante, ma che viene con te come se sei un difensore, sempre con la voglia. Ho avuto qualche attaccante che va in profondità, ma così con tanta fiducia dentro la sua velocità. Sì, qualcosa che deve essere sempre concentrato e il fisico che era un buono duellio anche. Sì. Sì, no, è vero che è un attaccante forte. Osimene, bravo, vero. Sì, sì, sì. Senti, Meignan, Theo Hernandez, Kaloulou, questo gruppo francese, cosa sta dando al Milan? È un aiuto per te avere tanti giocatori che parlano la tua stessa lingua, la tua stessa filosofia di gioco? Sì, perché altra lingua che ti aiuta al normale, sì, abbiamo la stessa cultura del calcio e adesso che sono all'esterno, con il gioco di più con gli altri giocatori francesi che sono all'esterno anche, che tu puoi veramente vedere che il calcio è il calcio, ma abbiamo differente di vedere e allora quando sei con qualcuno francese o che ha giocato in Francia. Certo, è un po' più facile. Sì, è normale perché abbiamo la stessa idea al stesso momento e quello che fa le differenze anche. Diciamo, vuoi parlare la Mem Lang, parlate la stessa lingua. Non mancano tanti giorni al derby, primo tempo possiamo dire 0-0. Cosa temi di questa Inter? È una partita dove il Milan deve segnare un gol per la differenza. Sì, sì, sarà sempre una partita molto difficile già, perché lo so che saranno i dettagli che vado a fare. Bravo i dettagli, certo. Ti vado a fare la differenza, perché loro sono anche bravi, noi anche, ma allora siamo conti a tutto e a tutte le situazioni. Sì, forse… Gieco Lautaro, cosa ne pensi? Già, già, già. Lo avevo visto già prima, ma sì, sono un giocatore molto forte, devo dire, per essere onesto. Dobbiamo difendere anche contro loro e con tutte le squadre, ma sono le più che possono più fare gol. Certo, sono quelli più pericolosi. D'altra parte, chiudo, Pier, per entrare nella leggenda dei grandi giocatori, bisogna affrontare grandi attaccanti. Normale. Tu sei pronto? Sì, sempre. Sì, sempre. Grazie a tutti